Vinceco c'è questo studio di fattibilità sulle aree di risulta portato avanti dalla giunta Alessandrini che non vi trova d'accordo, perché? Partiamo dal metodo, innanzitutto noi crediamo che un'amministrazione comunale debba dire cosa vuole fare all'interno di queste aree di risulta e non immaginare di spendere quasi 50.000 euro per uno studio di sostenibilità che non riguarda il progetto ma riguarda solo la sostenibilità finanziaria di un'idea. Poi partiamo da un'altra questione, 13.000 euro di campagna pubblicitaria per una campagna pubblicitaria che non ha nulla di concreto e poi un metodo da contestare perché questa opposizione vuole assolutamente contribuire a che si chiuda questa storia delle aree di risulta ma vuole contribuire confrontandosi sulle idee e non esclusivamente su uno studio di fattibilità che ha una serie di lacune che noi abbiamo evidenziato questa mattina. Partiamo dal fatto che quest'area e questo studio di sostenibilità assolutamente non tiene conto della contestualizzazione appunto delle aree di risulta e tutto quello che è il centro della città. Si parla di 8.000 metri quadrati commerciali, allora che cosa diciamo alla città di Pescara e alla zona centrale dove in qualche modo quasi tutte le amministrazioni hanno parlato del centro commerciale nazionale quando poi si pensa di realizzare 8.000 metri quadrati di commerciale all'interno di quest'area. Dove sono i box per i residenti? Una risorsa fondamentale per cercare di togliere le auto dal centro della città. Perché una gestione ventennale di parcheggi in quell'area con molti introiti e quindi con una operazione senza rischio imbeditoriale? Perché 12 milioni di euro del masterplan andranno in quest'opera? Ci sono tanti punti oscuri e noi crediamo che questo progetto, che non è un progetto ma è solo una idea che nasce dalla sostenibilità e da un progetto di sostenibilità economica e finanziaria, va rivisto e noi siamo qui in questo Consiglio Comunale per collaborare ma se questi sono i punti di partenza noi siamo qui per bocciare queste idee.